Luca mi sta tirando come un pazzo, mamma mia, sovrastimando la mia abilità, mi dice di guardare, è bravissimo c'ho sta cosa qua di guardare dove devo andare ma faccio una fatica pazzesca perché o guardo al corpo o guardo le traiettorie, tutte e due insieme non riesco a fare, gas spento mi dice, e dare gas, porco zio finisco fuori mi fa passare un po' meglio qua praticamente mi fa tirare fino in fondo, mamma mia, mi cago addosso e poi buttarla giù e dare ancora gas, ma larghissimo, ho frenato troppo tardi madre questa è la curva che l'ho presa praticamente ferma è la curva che l'ho presa che l'ho presa Grazie a tutti. Ah, ok, mi faceva segno di far passare. Mamma mia, sta curva. C'è una volta che la prendo bene. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Luca, mi sembra che sta andando un po' meglio. Grazie. Grazie a tutti. ho ripreso il gruppetto quello che mi aveva passato come se fosse fermo